e il fiato è poco, il fiato è poco stasera perché la telecronica è stata molto difficile, buona secca, anche gli amici di YouTube e siamo qui praticamente a vedere la Juventus che sta vincendo il derby della Mole anche se è ancora lunghissimo, mancano ben 5 minuti di recupero alla fine, finirà il novantasesimo, si alza il coro dei tifosi della Juve, di tutto lo stadio, fino alla fine forse a Juventus, cantavano una volta e tornano a cantare anche stasera, McKennie per UEA, una partita dove onestamente ho visto un buon toro solo nella prima parte del primo tempo, i primi 10-15 minuti, onestamente il toro, mi sembrava la squadra che era ben messa in campo, organizzata, che manovrava bene, vorrei vedere le statistiche dei primi 15-20 minuti onestamente perché mi stavo proprio preparando alla solida brutta partita, poi a un certo punto è cambiato qualcosa, non ho capito bene se è stata anche un'indicazione di Allegri che si è di Tiberi e diceva, ahia la schiena, comunque dicevo Allegri che ha dato un'indicazione sul 4, secondo me intendeva una linea 4 a centrocampo che effettivamente ha cambiato qualcosina, comunque io onestamente ho visto già una Juventus increscendo sulla fine del primo tempo, ma poi ragazzi il secondo tempo è stato bello, anche se poi gola, attenzione Ildis, vicino alla ronetta dell'area di rigore, Ildis potrebbe girare sulla sinistra per Cambiasso che sfida l'uomo contro contro uno, Cambiasso sul destro, tira, rimparato dal muro granata, mano, visto bene, Danilo con la mano? No, no, tutto regolare, abbiamo alzato strano la mano Danilo, tutto regolare, recupera una bella palla, pressing alto di Danilo su una tre quarti offensiva, cosa cazzo stiamo vedendo con te stasera signore? Il derby, è vero il derby, il derby riesce a prendere squadre scarse e trasformarle, è una cosa incredibile, questo giro è capitato alla Juve, comunque dicevo, il secondo tempo, una bella Juve, sono nati tanti gol, tante occasioni da gol, non tantissime, però le potenzialità ci sono state, onestamente ho visto una Juve ben messa in campo e poi alla fine i gol comunque sono arrivati su due calci d'angolo, e attenzione, e due papere clamorose di Bilinco Verisavic, prima va a farfalle che nemmeno Im, e praticamente il pallone, inganna anche il compagno di squadra alle spalle, credo sia Ilic, che alza un campanile buono, un auto assist per Ken, infatti poi il VAR aveva controllato se era un auto assist o era un assist di Milik, fosse stato quello sarebbe stato fuori gioco, e invece no, e poco dopo ancora sempre sugli sviluppi di un calci d'angolo dalla stessa posizione, proprio sotto il settore ospiti, dalla sinistra parte questo calcio d'angolo e praticamente Milinko Verisavic ancora vuole uscire, aveva davanti a sé tre uomini, impatta male e Milik tranquillo, tranquillo, fa questo colpo di testa che non era neanche tanto potente, secondo me se restava in porta la bloccava, capito? Però poi dopo, attenzione, c'è da dire che prima del secondo calcio d'angolo, del secondo gol, aveva fatto una bella parata sul colpo di testa di Milik che lì non aveva angolata, non mi era piaciuto molto, ma Milik dico, ma poi anche dopo sempre su Milik, su un bel tiro al volo di sinistro, ha fatto una bella parata, è sceso bene a terra, quindi poi il portiere si è anche un po' riscattato, però su due calci d'angolo andare così a vuoto, onestamente un po' imbarazzante, un portiere deve saper fare tutto, non solo i tiri da fuori, deve sapere fare le uscite e tante cose. Dopodiché nella Juve, oh peccato, potevamo recuperare una bella palla, qui, onestamente stasera direi che hanno giocato tutti bene, cioè onestamente anche Bremer da parecchio non lo vedevo così sicuro di sé e ha contenuto uno degli attaccanti più pericolosi della Serie A e soprattutto uno dei più pericolosi contro la Juve, cioè Zapatone, onestamente si è visto poco stasera, solo nel finale quando è entrato Voivoda che ha fatto cross molto migliore di Kili Rodriguez da quella parte lì, ma poi per il resto onestamente poco visto da parte del Toro, anche secca, ha provato, attenzione la palla rimane lì, sta cambiando, sto rischiando di rompersi una gamba, riesce comunque a buttarla fuori, siamo al 95esimo. E quindi capito, onestamente chi si potrebbe criticare Gatti che ha fatto anche gol, assolutamente no, Danilo, anche lui finale in crescendo, Rabiot, attenzione Rabiot, nota di merito, un giocatore che non mi era piaciuto nelle ultime uscite e onestamente ha fatto una bellissima partita, io ho rivisto, ho reintravisto il Rabiot della scorsa stagione. Locatelli, nel bene o nel male, a volte un po' troppo lento, ma comunque si è preso il fallo non perdendo il pallone a Pirla e poi soprattutto ha fatto anche qualcosa di buono, qualche altra cosa non buona, ma vabbè, Locatelli è quello che è. McCann in posizione, oh, il Dick prova a spizzicare la men, Milik blocca Savic, ma poi anche Miretti, onestamente un giocatore che a me non fa molto impazzire, preferisco sempre Fagioli, ma sto giro provato come seconda punta, anche se poi dopo è stato invertito. Ad esempio, in occasione dell'ammunizione di Belanova era Rabiot che stava dando lui in seconda punta, infatti Ken gli spizzica bene il pallone, poi Ken, ragazzi, aveva fatto un gol dopo cinque minuti, spettacolare! Che gol aveva fatto Ken, peccato che è stato onorato per fuorigioco, ma il gesto tecnico rimane. E la prestazione di questo ragazzo qui che adesso ha pallone è UEA, che è proprio lui! Tiene il pallone nel momento del tripice fisco, la Juventus vince il derby della Mole, ragazzi, ancora una volta. Ebbene sì, Turin le bianche e nera, dicono a Torino. E quindi è così. Veramente tante belle robe anche da parte di UEA, un giocatore che secondo me può giocare, assolutamente deve giocare, e ha avuto tra l'altro un cliente molto difficile, secondo me, su quella fascia. Infatti, secondo me, se il Torino ha attaccato poco sulla sua versante sinistro è anche per merito di UEA, che ha costretto un giocatore come Rodriguez a restare spesso basso. Mi è piaciuto moltissimo UEA. Dall'altra parte Kostic, più difensivo, e infatti, secondo me, è stata una partita difficile per contenere, mio modestissimo opinione, il migliore in campo del Torino, che a mani basse è stato Bellanova. Che giocatorone! Questo si gioca sempre così, lo voglio in nazionale sto cazzo di Bellanova, è fortissimo sto ragazzo. Ricci, l'altro italiano, ha giocato bene, secondo me, nel finale, quando la Juve dopo il 2-0 si è un po' abbassata, Ricci in posizione più centrale, ma Bellanova, ragazzi, è forte, 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 secondo me. Bello anche Sanabria, è entrato bene, questo è un altro forte. Vlasic, onestamente, Tamese, ha fatto una bella partita difensiva, onestamente non saprei neanche con chi prendermela del Torino se dovessi criticare qualcuno del Toro, è stata semplicemente una partita comunque fatta e decisa da episodi, ma una buona presa della Juve. Mi è piaciuto quindi anche i costi in fase difensiva, è uscito tra gli applausi, Ken è uscito in bronciato, ma ci stavano, se ne è andato tutti, tra le lui praticamente in attacco, vabbè dai, se ne è andato pure Gatti, diamine, e poi comunque, in generale non so se ho dimentico qualcuno, Ken ha anche una bella prestazione, onestamente, secondo me abbiamo fatto bene a non comprare altri attaccanti, perché purtroppo con poche competizioni, Milik, Ken, Vlaovic, Chiesa, eventualmente Ildis, secondo me va bene come rosa di attaccanti, non occorrevano altri giocatori qui, intanto peccato, peccato che la Juve non ha altre competizioni, neanche una Coppuefa, però dai, questo è, Gatti finalmente torna al gol, mi fa molto piacere per questo ragazzo, che dire, serata positiva, serata positiva soprattutto perché si vince il derby, molto importante per l'umore di Torino, ah, McKennie, giustamente McKennie, credo che si stia confermando il buon perito anche per lui, vedremo finché durerà, peccato non aver visto il link giocatore che mi fa impazzire e che quest'anno non sta riuscendo a mostrare le cose, però vedete, poi basta poco una partita come a UEA e si sblocca qualcosa, vedremo, vedremo, e ragazzi io ringrazio tantissimo anche tutti coloro che mi hanno fatto compagnia in live, vi ricordo che è uscito il video commento pochi minuti prima della partita, 568 megabyte, un'ora e mezza per caricarli, viva il mio upload, dopodiché vi saluto, buon weekend a tutti, ci vediamo lunedì per la live su YouTube, per i commenti del forum e per una live così, per chiacchierare quel capitolo brillante 1094 di One Piece, per il resto, auguro a tutti buon weekend, grazie mille per la compagnia, mi raccomando fate i bravi, ci vediamo prossimamente, buona cena a tutti, madonna santa che patata diretta le otto, detto questo, ciao, buonanotte a tutti, ciao.